Musica L'unico e inimitabile Carmina Ireghi della sezione di Napoli Partiamo dagli esordienti Il Genova all'alloro esordio Prima finale di Europa League Con il numero 11 Luigi La Freccia Confessore Con il numero 10 Il guerriero Danilo Bocchetti Con il numero 8 Luca Il Muro Draven Con il numero 9 Sasà El Capron Speranza Con il numero 44 Asturo Il Geometra Gurien Con il numero 18 Lino Lamente Cerrato Con il numero 0 Alessandro Il Mago Cerrato E con il numero 10 Anche se è infortunato Angelo De Gregorio Il Bomber Passiamo ragazzi da Lazio Con il numero 1 Con il numero 1 Sasi Spiderman Buono Con il numero 17 Mario Cannavaro Rosolino Con il numero 13 Francesco Lacosse Santoro Con il numero 7 Francesco Tiago Arcione Con il numero 17 Domenico TTR Delogatis Con il numero 10 Cristian CTN Di Narto E con il numero 9 Il Capitano Cristian Ibra Esposito Ragazzi In bocca al lupo Céline E per Vzier A Quorum En Quorum 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.